Anticipazione Uomini e Donne del 26 marzo 2023, ecco verrà registrata la scelta di Lavinia Mauro. Oggi sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, il fortunato dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Dalla nostra talpa presente in studio ecco le prime anticipazioni. Di seguito invece le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni attraverso la sua pagina Instagram. Iniziamo da quelle che riguardano il trono classico. Ecco infine la parte dedicata al trono Ober. Grazie. 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 Grazie.